Maverasti sotto il piatto d'oggi Mastro Giancarlo Quanti anni di cantiere Mastro Giancarlo? Tanti Tanti? Tanti All'anno 57 Praticamente ci sono pure nata Siamo a 7 anni che c'era la roba a mio padre Già stavi con la... Eh, doveva andare con il papà che stavamo a costruire casa Con la cittura, con lo spago oppure con i fili della luce Eh Quanti ricordi? Con la garcia mettevi dentro i bagnaloni E' la costruzione E' la costruzione Stavo passando a chiedere di vecchia La rete dell'epa La rete dell'epa, si Sabbia, pozzolana, cemento, grassello di calcio Bravo L'ho fatto pure io A mano A mano A mano Facevi una montagnola Ma guarda Ma guarda E' il tubo di luma che mettevi l'acqua A livella è una quella A livella acqua Il laser Ma questo è il laser Adesso senza laser non si lavora Eh, non si lavora Non si lavora Ma dì Ma che io vuole un torosico E' il mila che crede Quello è per il big mesh, eh? Eh, perché lo sia Non si lavora Non si lavora Non si lavora